Greta Rossetti svela il dolore della delusione. Mi ha usata e gettata dopo la fine con Mirko Brunetti al Grande Fratello. Parole pesanti su Mirko. Ma prima di iniziare il video ti chiedo di iscriverti al canale e di attivare la campanella delle notifiche. Grazie! Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, Greta Rossetti ha condiviso le sue profonde riflessioni sul suo rapporto con Mirko Brunetti attraverso uno sfogo inconfessionale. La ex tentatrice monzese ha avuto l'opportunità di confrontarsi con Mirko, collegato direttamente dalla casa, dove lui ha deciso di porre fine alla loro storia d'amore a causa di alcuni comportamenti deludenti di Greta durante la sua permanenza nel reality. Mirko ha espresso il suo disappunto riguardo alla gestione delle situazioni complesse che hanno influenzato la loro relazione, emersa in seguito alla loro partecipazione a Temptation Island. Ha suggerito a Greta di utilizzare questo momento per scoprire la sua vera identità e riflettere su chi vuole diventare. Tuttavia, ha anche dichiarato che la magia che avevano sperimentato si è spezzata e non sono stati in grado di recuperarla. Mirko ha concluso affermando che, con queste consapevolezze e senza rabbia, è raggiunto il momento di porre fine alla loro relazione. In seguito alle parole di Mirko, Greta ha condiviso il suo sgomento inconfessionale, sottolineando il rapido epilogo della loro storia e il suo senso di abbandono. Ha rivelato di sentirsi usata e gettata da Mirko, aggiungendo che la magia che avevano condiviso, sebbene ancora viva per lei, inevitabilmente svanirà a causa della delusione. Le reazioni delle altre concorrenti non sono mancate. Perla Vatiero ha commentato la decisione di Mirko, suggerendo che lui abbia capito che Greta non fosse la persona giusta per lui, mentre Monia La Ferrera, avendo trascorso molto tempo con la ex tentatrice, ha sottolineato la forte convinzione di Greta nel mantenere viva la relazione con Mirko, nonostante la dolorosa batosta ricevuta. In questo momento di profonda introspezione, Greta Rossetti affronta il difficile compito di superare la delusione e trovare la forza di ricominciare.